Domanda, in un documentario ho visto un uomo che si abbracciava con i leoni senza avere la minima paura, anzi era sommerso dai leoni. Com'è possibile? Risposta, è una familiarità data dalla convivenza e la convivenza stabilisce i rapporti di forza tra i conviventi. I rapporti di forza sono dati dai corpi superiori, che nell'uomo sono molto più costituiti che nell'animale ed ecco la superiorità dell'uomo è la tolleranza da parte degli animali. Domanda, ma quali sono i corpi con cui l'uomo influisce sui leoni? Risposta, il corpo astrale e i primi sottopiani del corpo mentale. Domanda, che cosa sono i sottopiani? Risposta, sono le aggregazioni di materia, progressivamente meno densa, del piano che si considera. Domanda, e come avviene l'influenza? Risposta, similmente al fenomeno che voi chiamate ipnosi. Domanda, e che cosa succede quando il leone aggredisce l'uomo? Risposta, che l'animale sfugge, anche per poco tempo, al magnetismo che l'uomo emana. Risposta, che cosa succede?